da tanti anni siete parte importante della nostra città però oggi i protagonisti sono le ragazze e i ragazzi che sono bravissimi quindi non me lo vogliono gli adulti ma voglio dedicare questo mio saluto ai bambini perché i bambini sono la nostra gioia e i bambini sono tutti uguali e tutti diversi e quindi noi dobbiamo creare una comunità in cui non ci sia odio e ci sia solamente amore che siamo persone diverse e dobbiamo vivere tutti quanti insieme in armonia e Napoli è una città ricca di cultura e di pace quindi grazie Grazie a tutti. 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 Luca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.